Scrive il 24 settembre del 1880 Vincent Atteo, caro Theo, io lavoro sempre sul corso di disegno di Barg, guardate da dove è partito Van Gogh, un corso di disegno che oggi diremmo per corrispondenza, non aveva lui, come ho detto prima, il massimo della solitudine, non ha mai avuto rapporti quasi con nessuno, non ha mai avuto amici, non aveva un maestro di disegno, ma aveva delle dispense, chiamiamole così, fatte da questo Barg che aveva costruito questo corso di disegno al quale si rivolge anche Van Gogh e Van Gogh parte da questo tipo di esperimenti. Allora, caro Theo, io lavoro sempre sul corso di disegno di Barg e mi propongo di finirlo prima di iniziare un'altra cosa, poiché di giorno in giorno mi sveltisce e mi forza sia la mano sia lo spirito e non sarò mai abbastanza riconoscente al signor Ter Stegg per avermelo così generosamente prestato. I modelli sono eccellenti, ma attenzione non i modelli dal vero, questi. Nello stesso tempo sto leggendo un libro sull'anatomia e un altro sulla prospettiva che il signor Ter Stegg mi ha pure inviato. Questo studio è molto duro e talvolta questi libri sono quanto mai ostici, ciò nonostante credo di far bene a studiarlo. Vedi dunque che sto lavorando con accanimento, ma per ora non ho ottenuto ancora dei risultati molto soddisfacenti. Spero tuttavia che queste spine daranno all'ora giusta il loro fiore e che questa lotta in apparenza sterile non sia altro che un lavoro di procreazione, prima il dolore, poi la gioia. E in mezzo alle sue sempre enormi difficoltà del suo vivere quotidiano, difficoltà che gli fanno sempre scrivere nella stessa lettera, caro Teo non guadagno un centesimo e benché lavori duramente mi ci vorrà ancora del tempo per arrivare a un livello tale da poter pensare a una cosa simile come quella di venire a Parigi, dove ci vogliono almeno cento franchi al mese. Qui si può vivere anche con meno. Però è certo che non potrò continuare ancora per molto, anche qui nella stanzetta dove sono ora. Vorrei perciò prendere una casetta da operaio che costa circa nove franchi al mese. E quindi in mezzo a tutte queste difficoltà legate al vivere quotidiano appunto. Van Gogh pensa al disegno come un apprendistato, come a qualcosa che gli consenta di tenere un equilibrio altrimenti forse quasi impossibile da tenere, da raggiungere. È un equilibrio che poi, come sappiamo, riesce a resistere per una decina d'anni. A me è sempre venuto da pensare che il disegno, adesso vedremo alcuni pezzi veramente meravigliosi dei primi anni di Van Gogh disegnatore, è sempre venuto da pensare che il disegno sia servito anche a Van Gogh per costruirsi una sorta di grammatica dell'anima che altrimenti con la pittura direttamente non si sarebbe potuto costruire. E sempre in quella lettera del 24 settembre 1880 scrive ancora questa cosa, sempre rivolto al fratello. Non potrò mai dirti quanto, nonostante il fatto che ogni giorno si presentino e si presenteranno nuove difficoltà, non potrò mai dirti quanto sia felice di aver ripreso il disegno. Già da molto tempo ciò mi preoccupava, ma consideravo sempre la cosa ormai impossibile al di sopra delle mie capacità. Ma ora, pur sentendo la mia debolezza e la mia penosa soggezione e molte cose, ho ritrovato la mia calma di spirito e l'energia mi ritorna ogni giorno di più. Si tratta per me di imparare a disegnare bene, a dominare sia la matita, sia il carboncino, sia il pennello e una volta raggiunto questo farò delle buone cose, non importa dove. Allora, noi vediamo che Van Gogh parte assolutamente dall'esercizio del vero, perché questa per lui è la sua, non soltanto salvezza, ma è anche la sua volontà di entrare dentro quel mondo che lo incuriosisce, che lo rende partecipe e che lui vuole assolutamente descrivere. In questo modo, guardate anche l'ingenuità di questo disegno, con queste persone che portano dei sacchi sulla schiena. Già questo è un disegno, è passato un anno e credo possiate già apprezzare la differenza e la forza molto più intrigante di questo foglio. Quello che Van Gogh vuole fare è annullare la distanza tra sé e le cose che vengono dette, che vengono raccontate attraverso il disegno. Il percorso, il cammino, il passaggio che avviene tra colui che disegna e colei, colui, coloro che vengono disegnati, deve essere accorciato, perché c'è questo spasmodico bisogno da parte di Van Gogh di partecipare fino in fondo della vita di coloro che ha assolutamente davanti. A me viene di fare questo raffronto. Van Gogh considera il disegno una sorta di tabula rasa, come un ripartire da zero completamente. Crearsi una grammatica nell'esprimere qualcosa non è soltanto il creare una grammatica che abbia a che fare con la tecnica, ma è anche crearsi una nuova grammatica del cuore dell'anima. Allora, i segni che Van Gogh traccia sul foglio bianco sono come i segni che gli uomini preistorici tracciavano con quelle meravigliose pitture parietali che conosciamo, sui muri delle caverne a Lascaux, ad Altamira, tutte quelle grotte meravigliose nelle quali l'uomo primitivo si è espresso per raccontare le proprie paure, per raccontare questo. E questo si fa per quanto riguarda Van Gogh proprio attraverso l'immagine di un volto, di una figura. E continuo a farvi vedere alcune immagini che Van Gogh riprende. Siamo nel 1882 e questo è il giardiniere che lavorava per la famiglia Van Gogh, ancora dentro questa ingenuità, che però ha a che fare con un altro elemento che io ritengo assolutamente centrale nell'opera di Van Gogh. E dico adesso una cosa che potrebbe sembrare strana se noi ci ponessimo a considerare semplicemente l'involucro esterno dell'immagine di Van Gogh e nomino la parola purezza, nomino la parola candore. E questo è un termine che è ineludibile per me nella conoscenza e anche nell'amore nei confronti dell'opera di Van Gogh. Purezza e candore che hanno a che fare con l'immediatezza del vedere. Ed ecco il tema forse centrale nella predisposizione di Van Gogh al disegno, l'immediatezza. E cioè la sua incapacità di frapporre sosta fra il momento del pensiero e quello della risoluzione in immagine di quel pensiero. È come se Van Gogh nel momento stesso in cui genera nel pensiero un'immagine, avesse la necessità, il bisogno direi fisiologico, di trasformare istantaneamente in immagine quello che era stato il suo pensiero. È un pensare pittura istantanea, immediata e il disegno, il lavoro con la matita consente di fare assolutamente questo. Allora, come ho ricordato, lo studio della figura e del volto è uno studio fondamentale, soprattutto negli anni olandesi. Gli anni olandesi vanno fino al novembre del 1885. Van Gogh poi lascia Nuenen, che era il luogo nel quale il papà esercitava la sua missione di pastore protestante, per passare tre mesi ad Anversa e poi l'ultimo giorno di febbraio del 1886 presentarsi a Parigi. Appuntamento davanti al Louvre con il fratello Theo. Dico che questi anni olandesi sono sotto il segno del volto e tutto questo cammino è centrato su un punto di arrivo che ha un nome che tutti voi sicuramente ricordate, che è un quadro che Van Gogh, contrariamente anche al fratello Theo e contrariamente anche ad un pittore amico von Rappar, considera il suo primo vero capolavoro, i mangiatori di patate. Allora lui per un anno, un anno e mezzo, realizza, e questo che voi vedete è uno di quei disegni, realizza una serie infinita di studi sia su carta, dunque disegni, sia su tela, piccole tele che ritraggono delle teste che poi andranno a comporre l'immagine finale dei mangiatori di patate e si concentra su questo studio forte e assiduo del volto. Ma questo senso, se possiamo dire quasi l'ombrosiano delle immagini, dei volti di Van Gogh, lo sentiamo, questo è un altro disegno per me meraviglioso assolutamente, siamo nel 1883, questa donna seduta in preda ad una sorta di grande e assente malinconia, ci fa capire come Van Gogh lavori sulla ferocia quasi del volto, però una ferocia che ha sempre a che fare con questo sentimento che vaga tra la nostalgia e la malinconia, la incapacità di essere incardinati nel mondo e invece la capacità di essere sempre vaganti, di non avere mai un punto fermo e in questo viaggio, che è un viaggio tutto interiore ovviamente, trovare punti di sosta, stazioni di passaggio e in questi punti di sosta, in queste stazioni di passaggio incontrare continuamente volti e disegnarli e dipingerli e farli diventare parte anche della propria vita, perché un'altra cosa centralissima da dire in un autore come Vincent Van Gogh, il quale ha realizzato nel corso della sua vita quasi 40 autoritratti in pittura, che moltissime delle sue immagini legate a dei volti sono in realtà la trasformazione dell'immagine del proprio volto in una sorta quasi di autoritratto continuo e permanente che si propaga di foglio in foglio e allora in questo senso noi dobbiamo pensare come anche la scelta stessa delle immagini da proporre, dei volti da riprodurre, sia una scelta mai casuale, mai casuale, ma sempre invece legata a questa sorta di diario intimo, di diario interiore nel quale il pittore continuamente si rappresenta. È per questo motivo che io credo fermamente come l'attività di Van Gogh come ritrattista sia non solo e non soltanto o anzi molto meno l'attività di un ritrattista che vuole riprodurre fedelmente le fattezze di una persona, le figie di una persona e molto di più invece la rappresentazione di un ritrattista che si occupa di disegnare e dipingere l'anima e sono due cose estremamente diverse che in alcuni pittori però riescono a convivere assolutamente molto bene. Il disegno, e sono alla conclusione di queste mie osservazioni ormai, il disegno è un qualcosa che nel suo gesto fulmineo, come è sempre quello della matita, del carboncino, è qualcosa in Van Gogh che assicura assicura la vita e assicura alla vita. Il gesto fulmineo della mano assicura la vita, che cosa voglio dire? Rende vive ancora una volta per un tempo più lungo le persone che vengono ritratte. Assicura alla vita, rende quelle persone, partecipi con questo aggancio meraviglioso, misterioso e segreto del disegno, le aggancia alla vita che stanno vivendo. Quindi una doppia valenza, come ho detto prima, vivere insieme il tempo del presente attraverso la riproduzione di un volto e vivere insieme anche il tempo di un'assenza infinita, come è il tempo dopo la vita e il volto rappresenta questo meraviglioso equilibrio che in nessun altro modo si può assolutamente raggiungere. E c'è questa cosa bella, che si sente profondamente, perfettamente, nell'opera di Van Gogh. Mentre lui guarda la persona che sta ritraendo, noi sentiamo perfettamente come ci sia un cammino che quello sguardo percorre. L'artista indirizza il suo sguardo verso la persona che ha davanti a sé, ma quello sguardo rimbalza e dalla persona torna indietro. E a volte ci sembra quasi che sia più questo cammino dello sguardo che non il volto stesso ad essere il tema e l'oggetto più vero e più profondo dell'opera d'arte in Van Gogh. Perché è in questo modo, raccontandoci, senza dirlo, il percorso del suo sguardo, che noi possiamo sentire la forza e la caparbietà, il senso di malinconia, di sospensione, di dolore, di mistero, di assenza, in uno sguardo come quello di questa donna. Siamo nel Drente, nell'autunno del 1883. Vincent Van Gogh lavora per tre mesi in questa regione che è considerata la regione con i più bei paesaggi d'Olanda. Lavora per tre mesi, ma improvvisamente un giorno, lungo un canale, vede un corteo funebre nella nebbia, la nebbia che si solleva appena dall'acqua, dentro un colore verde profondo. E una donna si gira di scatto, questa donna. Van Gogh ne ha una visione istantanea. Lui è dall'altra parte del fiume che sta dipingendo, dei piccoli fogli colorati, con la pittura ad olio, con questi paesaggi di fiume, di terra grassa nell'autunno. Vede questa donna, torna a casa e fa con l'inchiostro nero questo bellissimo disegno. celebra, con questo piccolo disegno, un'assenza futura attraverso una presenza. Questa ambivalenza legata ancora al termine della figura umana, l'idea bellissima del prendersi cura, l'immagine di un volto, fermata sulla tela, disegnato su un foglio, è il prendersi cura di qualcuno, il ricordare, il senso del ricordo, della rammemorare. Van Gogh sommamente, quasi più di ogni altro artista, utilizza la forma del ricordo attraverso il disegno come forma, ripeto, di rammemorazione. La sua è arte meravigliosa in questo senso, ai confini, se non dentro addirittura il sacro. E questa testa di donna entra perfettamente nella dimensione del sacro. ricorda un'assenza che non c'è ancora, ma che ci sarà. Ed ecco che ci riportiamo allora alle quelle caverne preistoriche, alle pitture parietali. Che cosa rendeva in quelle caverne l'idea profonda del sacro? Che cosa? Era l'enumerazione dei volti, degli oggetti, delle cose, degli animali feroci che facevano paura. L'uomo primitivo si esprimeva con quei disegni sulle pareti per collocare la sua presenza, dentro a quei disegni, nel grande spazio dell'universo, creando in questo modo l'idea del sacro. La contemporaneità rispetto alla propria vita e anche la consapevolezza che quella contemporaneità non ci sarebbe più stata e tutto si sarebbe inserito in una vicenda temporalmente più ampia. Difficile ovviamente da essere descritta, se non attraverso questa lente meravigliosa che è appunto l'idea del sacro nella pittura. Il punto finale, come ho detto, di questi anni olandesi è il quadro con i mangiatori di patate, che è completato nella primavera del 1885, dopo almeno un anno di studi, come ho detto prima. Allora, per quanto noi stiamo parlando di Van Gogh, che come ho detto accorcia finché può e in ogni modo la distanza fra sé e l'immagine di ciò che dipinge, noi sentiamo però che anche in questo quadro c'è come un di più di rappresentazione, per dire come il disegno che ho così tanto elogiato per farvi entrare in modo diverso nell'opera di Van Gogh, di cui continueremo a parlare nella prossima e penultima lezione, che il disegno ha quel di più di presa diretta sulla vita, sulle cose. Alla fine questo quadro, ambizioso, perché a questo quadro Van Gogh ha pensato per un anno intero, anche questo quadro diventa qualcosa di ovviamente lievemente più addomesticato, perché la crudezza della verità, la crudezza della realtà si trovava ancora di più in quella vicinanza che era determinata dai disegni nei quali nell'ebrezza di una velocità, nella velocità di un'ebrezza, si rappresentava proprio un volto. E alla fine dei suoi anni olandesi, fra l'ottobre e il novembre del 1885, Van Gogh dipinge quest'ultimo quadro che lo porta idealmente, pur con questo intermezzo dei tre mesi passati ad Anversa, lo proietta già verso i due anni trascorsi a Parigi, proprio dalla fine di febbraio dell'86 al 20 febbraio del 1888, quando prende il treno per andare in Provenza e chiude con due o tre paesaggi autunnali della campagna attorno a Nuenen e idealmente chiude con questo quadro bellissimo, con questa donna che si incammina verso quella luce infiammata di tramonto, chiude questo percorso dedicato alla figura, chiude con la necessità di un momento di pausa, di un momento di sosta. È per questo motivo che per la prima volta dopo tanto tempo l'immagine della figura umana non è un'immagine colta nella suo primo piano, non è un'immagine colta nella sua drammaticità di denuncia di una condizione di dolore, di tristezza, di sofferenza, di sopraffazione, no. Viene dato invece il senso di un disperdersi dentro l'infinito. Quel lungo percorso che per cinque anni Vincent Van Gogh ha fatto si chiude qui, dentro questa luce di tramonto, in uno spazio che accenna a colori che verranno sicuramente diversi, ma dentro una condizione interiore che è quella che rimarrà per sempre straziante, uso la stessa parola con cui ho iniziato, nell'opera di Vincent Van Gogh e in tutta la sua vita. Qui mancheranno meno di cinque anni alla conclusione della sua avventura terrena. E questo rapporto, quello più straziante in assoluto, è il rapporto drammatico, poetico, che ha generato così tanta bellezza, il rapporto fra se stessi e l'infinito. E in questo rapporto a qualcuno talvolta capita anche di perdersi. Grazie. Applausi. Grazie, grazie. 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 Grazie.